Che spettacolo! Lui è Cyril Chaké. Un vero maniaco della pesca agli enormi predatori che va a scovare nei luoghi più selvaggi e remoti del pianeta. Sono questi scenari aspri che mi piacciono. Non lo spaventano né la fatica, né gli insuccessi. Oh no! Perché adora le sfide. A Pesca con Cyril. Dal 6 dicembre ogni domenica alle 22. Su Pesca, canale 236. Grazie.